Ecco il signore là, allora si chiama Ferrari, potrebbe anche essere ricco, però non lo so, carino, ciao Nadiella, buon primo maggio da tutti, sicuramente hai capelli tagliati, vabbè, io ti consegno questo messaggio, speriamo questo messaggio realmente soddisfi la tua vita futura, ciao Morena, numero 116 ragazzi, 116, chi è quest'uomo ragazzi? 116, 116, per me è un uomo che è in bagno, sarà in bagno, sarà in bagno, non c'è, è in bagno, Allora, abbiamo qualche buona nuova numero, ciao, pregato, Margherita, Margherita vai, Da dove vieni la prima? I formici, perché tu? Ma c'è il signore con i formici, non vado a giugno, c'è il dubbio comune di formici, è una signora, immaginare, tutte donne, formici, e tu cosa fai nella vita? Lavora, perché chi non ha muore, non va a muore, Com'è? Giustamente lei ha fatto la sua scelta, e come fai, cioè come lavori, cosa lavori fai? Segreto, 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 segreto,